Salve a tutti signori, ben ritrovati, eccoci qui pronti su Pausa Caffè stavolta per una notizia di politica dove troviamo la segretaria del PD, Elis Lane, che si trova a Bruxelles a margine di incontri istituzionali che dice un po' di cose, quindi cerchiamo di analizzare cosa sta succedendo soprattutto, dice la destra adesso è al governo, dato di fatto che già conoscevamo. Io vorrei chiedere ancora una volta questa destra dov'era quando negli anni passati si era provato a fare qualcosa, a superare il regolamento di Dublino che è il motivo per cui centinaia e centinaia di migliaia di richiedenti asilo rimangono da anni bloccati nel primo paese europeo in cui mettono piede, ma dov'erano? Perché io non li ho proprio visti, io ero nel team negoziale di quella riforma e per 22 riunioni, per ben due anni, non li ho mai mai visti. Durante il prevertice del PSE a Bruxelles ho parlato con il vicepresidente della Commissione europea con delega al Green Deal Franti Mermens dei dossier che riguardano la transizione climatica, assicurandogli il massimo supporto da parte del PD, naturalmente in un dialogo aperto, che possa capire quali risorse ulteriori si possano individuare per accompagnare questi cambiamenti, ha aggiunto Ellie Schlein. Risorse che servono, prosegue, per accompagnare tutti i settori che hanno bisogno di essere portati in questa nuova conversione ecologica. Non ci sfuggono le delicatezze, ma io credo davvero che si possa fare, ascoltando, le categorie e accompagnandole a fare dei passi che sono irrimandabili. Vale per l'efficientamento energetico, per l'elettrificazione dei trasporti, per il grande tema dell'energia pulita e rinnovabile, prosegue. Da parte del governo italiano, vedo tanta demagogia su tante misure che lui sta proponendo, penso a quelle sull'edilizia e l'efficientamento energetico. Segnalo che, se fossimo in grado di investire maggiormente in quella direzione, noi potremmo ambire a ridurre strutturalmente della metà le bollette delle famiglie italiane. Dice la segretaria del PD, non è una cosa, sottolinea Schlein, che non interessi alle famiglie italiane, certo bisogna orientare risorse in quella direzione. Noi lo stiamo chiedendo in Europa, il PD ha fatto anche approvare emendamenti in questa direzione. Mi chiedo però se il governo fa finta di essere altrove o vuole essere parte di questo grande cambiamento, necessario al paese, sottolinea. Sugli assetti interni ci prendiamo questi giorni per proseguire un confronto assolutamente sereno e faremo insieme le valutazioni. Così la segretaria del PD, Ellis Schlein, risponde, a margine di incontri istituzionali a Bruxelles, alla domanda se intenda sostituire il capodelegazione del partito nel Parlamento europeo, che è attualmente Brando Benifei.